il motivo per cui anche non posso fare le live qual è? non mi molla un secondo e se mi allontano piangi di brutto questa è la verità comunque questa sera forza Juve sempre comunque gli allegri stai attenti a non fare cavolate perché veramente questa sera vittoria non è fino a 80 minuti nei 90 minuti nei 90 minuti chiudere il discorso a Torino sia chiaro sia chiaro chiudere il discorso a Torino comunque voglio bene ma si ci ingazzate fino alla fine forza Juve